Fulvio e De Nigris, allora bisogna amare fortemente questa vita, bisogna andare oltre le difficoltà, bisogna vedere davvero, altro che il cuore oltre l'ostacolo, vedere oltre gli ostacoli. Sì, amare sempre e provarci sempre, quindi innamorati della vita è vero perché specialmente quando le condizioni sono difficili, sono complicate, le famiglie sono molto compresse nel loro bisogno di aiuto in una convivenza con la malattia che diventa sempre ogni giorno più complicata e difficile, specialmente quando poi si lasciano i luoghi di riabilitazione, passa la fase post-acuta e quindi si ritorna al domicilio. Noi nella Casa degli Svegli Luca De Nigris sperimentiamo ogni giorno con questo percorso di cura, di sfida anche, per fortuna l'80% di questa struttura pubblica dell'Agenza di Bologna si risveglia ed esce quindi e va al domicilio, però i percorsi sono duri, sono complessi, la parola risveglio è una parola complicata e quindi richiede sempre molta assistenza, molto aiuto e un libro come questo di Massimo Pandolfi che parla anche del popolo dei risvegli, quindi siamo onorati di essere dentro a questo libro, è un libro che ci fa capire come non dobbiamo arrenderci mai ed è importante che questo club, L'Ingueribile Voglia di Vivere, che compie dieci anni, sia sempre al fianco nostro perché dà il senso di una rete di associazioni, di persone che tutti quanti insieme cercano di essere ogni giorno innamorati della vita. Fulvio, un'esperienza personale ovviamente la tua, un'associazione a realtà che hai costruito, qual è il momento più difficile, più duro per una famiglia, per un familiare, per un parente, per un genitore? Beh, intanto accettare una condizione, cioè che ovviamente è una condizione non irreversibile, però è una condizione che ovviamente provoca un grande shock. Noi con Luca l'abbiamo provato, io e Maria Vaccare, la mamma di Luca, presidente degli amici di Luca, e portiamo questa nostra esperienza giorno per giorno a favore delle famiglie che invece affrontano oggi questo problema. Purtroppo il nostro Luca non c'è più, però la cosa bella è che attraverso la casa di Riviglia lui dedicata, ogni giorno queste strutture possano dare la speranza, avere questa sfida, che è anche molto basata sulla ricerca. Oggi sulla ricerca bisognerebbe investire molto e invece da questo punto di vista siamo ancora molto carenti. Quindi c'è un diritto, un diritto all'assistenza, un diritto alla ricerca. Noi abbiamo come rete delle associazioni fatto questa conferenza di consenso, che è un percorso che cerca appunto di mettere in campo tutto ciò che bisognerebbe fare per assistere e dare speranza a queste persone. Quindi noi ci battiamo giorno per giorno e vorremmo che le istituzioni insieme a noi lo facessero sempre. Bologna ovviamente è una regione virtuosa, questo ce lo permette, però dobbiamo sempre presidiare, essere sentinelli di questo percorso che non è scontato. Incontri esistenziali per cercare di allargare, di parlare sempre di più di questo tema? Beh, Incontri esistenziali di Lumia è sicuramente un contenitore molto interessante. Noi avevamo già partecipato con Bernardi a questa presentazione del libro di Bocci, che è un'esperienza anche lì straordinaria di vita vissuta. E devo dire che è un contenitore molto interessante che a 360 gradi affronta tante tematiche legate ai diritti, alle disabilità, alla cultura, al sociale. Ed è molto bello che si unisca appunto alle attività sociali di tante associazioni come la nostra che hanno necessità di confrontarsi e avere un palcoscenico molto più ampio di quello che di solito si vive quando appunto si fa volontariato. Quindi volontariato è molto bello, ma è bello anche non essere invisibili, essere visibili sempre e allargarsi sempre di più. Incontri esistenziali ci consente questo. E quindi di questo siamo grati. I privati cittadini, le persone che ci sono seguenti in questo momento, qual è un po' l'impegno che devono avere? L'impegno è molto forte. Loro sono proprio chiamati a fare volontariato, ad essere cittadini attivi. Quindi essere protagonisti di tutto quello che leggo, che a volte sembra molto lontano da loro. In realtà, come dice Alessandro Bergonzoni, dobbiamo coinvolgere i non coinvolti, cioè i sani, i sani cronici. Ecco, quindi chi ci ascolta sappia che siamo aperti appunto al volontariato, che non solo noi, ma anche il club Ingueribile Voglia di Vivere, che nelle quali noi facciamo parte, è una struttura aperta a questo e anche ad aiutare, perché gli amici di Luca e gli altri sono in campo per aiutare le persone fragili. Quindi chi meglio di voi può testimoniare questo.